Exo Rattics, stai cercando un crossover di altissimo livello e lo vuoi blu? Mercedes GLA 2100 di cilindrata, 136 cavalli, allestimento business, scopriamola insieme. Davvero di carattere in questa versione blu, con barre al tetto in nero lucido, molto belle le scanalature che troviamo sul copano che fanno dei bellissimi giochi di luce. Alimentazione diesel per un consumo reale misto di 4,2 litri ogni 100 km. I cerchi sono in lega, multirazza, cromati da 17 pollici e il battistrada in condizioni perfette. E pur essendo una crossover il bagagliaio non è per niente male, molto ben sagomato con luce alogena di cortesia sulla sinistra, parte da una capienza di 421 litri che arrivano a superare gli 800 abbattendo le sedute posteriori frazionabili 60-40. Inoltre il bagagliaio è elettrico, hands-free tailgate. Agevolissimo è accedere all'abitacolo che è spazioso, confortevole e super luminoso grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. Le sedute sono in tessuto, bellissima è la texture, molto piacevole al tatto, effetto 3D anido d'ape. E dotate di attacchi ISO, fixa entrambe le sedute esterne posteriori. Il sistema di accensione start and stop. Mercedes, lo sappiamo, cura tutti i dettagli, a partire dalla palpebra della plancia che riprende la texture dei sedili. Abbiamo a disposizione un display praticissimo posizionato al centro e il quadro strumenti alla parte centrale in digitale. Dal volante abbiamo accesso a numerosissime funzioni, tra cui il comando vocale per la gestione delle telefonate. Non manca poi posteriormente la levetta del cruise control con limitatore di velocità e sulla destra troviamo il cambio che è automatico. Da questa praticissima manopola posizionata al centro del tunnel centrale possiamo gestire tutto il sistema infotelematico. Abbiamo a disposizione le impostazioni di setup della vettura, possiamo connettere il nostro smartphone, accedere alla navigazione, alla radio e ai multimedia. Inferiormente troviamo le bocchette della reazione, da una forma davvero di design ricercatissima e abbiamo ulteriori tasti, sempre per la gestione dell'infotainment. Ancora più in basso troviamo le manopole per il clima e numerosissimi sono i vani portoggetti a scomparsa, presa da 12V e un ulteriore pozzetto sotto il bracciolo centrale con doppia presa USB. Inserendo la retro abbiamo poi a disposizione una retrocamera davvero molto molto ben definita per parcheggi no stress. Ancora più ergonomiche, avvolgenti e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale e supporto lombare. Eccoci arrivati al momento del piccolo reminder finale. Corri subito sul nostro sito rattiauto.com e riserva la tua auto con un semplice click. Potrai prenotare anche una videocall con uno dei nostri sales e ricevere la tua auto direttamente a casa tua entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto!